Svizzera Italia, ripeto Svizzera Italia, siamo ritornati agli origini e devo dire, siamo ritornati ancora con Allegri, con Allegri, giocatori che non sanno posizionarsi in campo, che non hanno uno schema di gioco e siamo sempre a ripetere sempre le stesse cose, sempre le stesse cose, Spalletti un altro Allegri. Non sanno prendere un allenatore decente, non sanno prendere un allenatore tipo Conte, Antonio Conte che dà la grinta, che dà la carica, non hanno stimolo. Ma quante volte bisogna ripeterlo, quante volte bisogna ripeterlo che in questa nazionale bisogna avere anche una specie di, non lo so, non lo so, ditemi voi che, non lo so, scuola di calcio, lezione di calcio da parte degli svizzeri. Lezione di calcio da parte degli svizzeri. Pazzesco, pazzesco, noi non siamo capaci a controllare una palla. Chiesa imbarazzante. Di Lorenzo un altro. Eh sì, dai, 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 dai. Ditemi voi, ditemi voi quanto bisogna aspettare per avere una nazionale decente. Anzi, non abbiamo giocatori scarsi, ma andiamo sempre a ripetere uguale, uguale. Non cambia una virgola che quando si parla di nazionale e di spalletti si parla di allegri. Nel mio modo di pensare, potrei anche sbagliare, però siamo sempre lì. Anche giocatori fuori posizione e tutto quanto. Quello che volete, ma anche, cioè, e dopo dicono di un'Italia che si farà. Un'Italia più, un'Italia più forte. Ragazzi, ormai siamo già in eliminazione. Ormai siamo fuori dalle europee. Dai, diciamola qua, che ormai tanto parlare di europei, nazionali, Italia, non ci compete più, non ci compete più. E' come la Juve, è come la Juve che va in campo europeo, stessa cosa. Non ci sono sbilanciamenti di equilibrio da parte delle squadre. Perché non c'è un singolo allenatore che riesce a dare stimolo a dei giocatori, a una cosa che puoi dire che bella nazionale, che bello approccio di inserimenti, di interpretazioni di gioco, gestione di gioco, gestione anche nell'area di rigore. Ma è uguale di vedere, è uguale a vedere la Juve. Non cambia una virgola. Ditemi voi sotto nei commenti, se dico sbagliato, posso dire anche cavolate, perché, ragazzi, un video a caldo così senza, non dico neanche senza idee, perché, però, una nazionale vergognosa, insipida, insipida, ma neanche perché non, sì, insipida. Una nazionale insipida, una nazionale che non dà niente, che non dà niente. Ditemi voi, se parlo sbagliato, se parlo giusto, se dico cavolate, ma una roba indescrivibile, una roba indescrivibile. Noi che aspettiamo gli europei, i mondiali, di vedere una bella Italia, non vediamo più niente, ragazzi. Non vediamo più niente. È inutile che speriamo cosa. Inutile che speriamo cosa. Niente. Questo ci dà da pensare. Questo ci dà da pensare perché noi non ci meritiamo di essere presi a pallonate in faccia. Giusto? A posto. Niente. È tipo un ultrasfogo. Non è neanche un posto partita. È un... non lo so. È una cosa tra di noi. È una chiacchierata tra di noi. E basta. Non c'è niente. Non c'è niente da commentare. Non c'è niente da esaminare. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Non c'è niente. Bene? Perfetto. Bene, ragazzi. A posto. Io non vi dico neanche di iscrivervi al canale, le solite cose, commentate e condividete. A posto? No, no. A posto. A posto. Va bene. Italia. Nazionale. Out. Elimazioni. A posto. Ciao. Cosa volete che vi dica, ragazzi? Cosa volete che vi dica? Niente? Commentate qui sotto nei commenti. Bene? A posto. Ciao, ragazzi.